Si chiamava Joel Langford, era un ragazzo di 17 anni di età, studente originario di Marlowe Bucks. Si è ucciso, si è fatto fuori dopo essere stato preso di mira dai bulli. I ragazzi infatti della sua scuola lo avrebbero appellato come strano, perdente e ritardato, così ha raccontato l'amata mamma. Appellativi che andavano a ferire un giovane molto intelligente e più che sensibile come lui. E così il ragazzo in questione ha deciso di farsi un video di addio e poi si è fatto fuori. Joel soffriva di autismo, ha sopportato le prese in giro da parte dei bulli, fino a quando non ce l'ha fatta più la mamma aveva notato qualcosa che non andava più in lui. All'inizio il figlio andava bene a scuola, poi il rendimento è sceso flamorosamente, la famiglia sospettava qualcosa ma non sapeva che era costretta a subire Joel. Il giorno in cui si è ucciso hanno pensato fosse per un maione, in realtà era per colpa dei bulli. Si è progettato sotto a un treno, ha registrato un video in cui ha spiegato il motivo del gesto che ha compiuto. A voi un saluto caro, purtroppo Joel è solo l'ennesima vittima di bullismo, bullismo che non è, diciamo così, una piega presente nella nostra società, quindi solo quella italiana ma anche inglese e negli altri paesi del mondo. Joel Hanford, riposi in pace, Amen.